La dea bendata si ferma anche a Sarno quest'anno, biglietto vincente della Lotteria Italia. Un inizio anno con la fortuna che segna dunque anche la città dei sarrastri. I biglietti vincenti che sono stati estratti hanno portato vincite a più zeri un po' ovunque in Italia. A Sarno, biglietto da 20.000 euro venduto alla tabaccheria Duomo nella frazione di Episcopio. E ieri grande feste e brindisi, una vincita che si vive come buon auspicio per l'intera zona periferica della città e anche per l'esercizio commerciale. Non si conosce il nome del fortunato e la titolare della tabaccheria Duomo ci ha tenuto subito a mandare i suoi auguri. Siamo molto contenti che c'è stata una bellissima vincita. Speriamo che questa vincita sia andata a una persona che veramente aveva bisogno. L'anno è iniziato benissimo. Speriamo che accontentiamo anche i nostri paesani. È stata una cosa per noi bellissima. La prima volta che ci capita. Siamo da pochi aperti. Siamo da pochi aperti. Buona vita a tutti. E un buon auspicio per la nostra attività. Grazie.